Alla fine, sarà il 7 ottobre a Belgrado, i corridori avranno percorso 24.000 chilometri attraversando 47 paesi in tutta l'Europa. Partiti il 21 febbraio scorso da Lisbona in Portogallo, la tappa di Trani è tra le più suggestive dell'intero percorso che sta facendo la fiaccola ardente, simbolo della pace. Una marcia a staffetta nata con lo scopo di promuovere in tutto il mondo la pace appunto, ma anche l'amicizia e l'armonia attraverso l'incontro con le scuole, le associazioni, i semplici cittadini. Portano non solo una politica di assenza di guerra, ma portano una politica di valori veri che la città di Trani ha saputo cogliere ed è piena qui con una rappresentanza del mondo della scuola, del terzo settore, del volontariato e di tutte le associazioni della sicurezza che si sono qui raccolte per un ideale e continuo passaggio di questa fiaccola della pace. Nata nel 1987, la Pace Run è un evento annuale di carattere internazionale. Dalla nascita dal progetto ad oggi hanno incoraggiato e appoggiato l'iniziativa a numerose istituzioni, tra cui la Commissione Europea e l'UNESCO, e hanno aderito personalità del mondo della politica, dello sport, della Chiesa, tra le quali Nelson Mandela, madre Teresa di Calcutta, Giovanni Paolo II, Mikhail Gorbachev, Mohamed Ali e Carl Lewis. In Italia c'è il sostegno del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.